Salve a tutti ragazzi, qui TtD, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua! Avete letto il titolo? Saiyan Saga Dokkan Fest! What? Dokkan? Ci sono voluti sette anniversari, eh? E due mesi, tipo... Saiyan Saga Dokkan Fest? Yeah! È Radish! Radish Dokkan Fest! Ora, 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 ora... Lo so già, qualcuno ha già visto Radish e ha detto E che schifo! Radish, effettivamente Dokkan Fest ci sta, anche se perché... Dopo vi faccio vedere quanti Radish ci sono nel gioco E sono due in croce, quindi... Radish Dokkan Fest è ben accetta la cosa Cioè... C'è gente che si lamenta sempre Ma è sempre solo Goku e Vegeta! Radish! Radish Dokkan Fest! Allora, allora, allora... Parliamo subito esattamente... Non ci sono news, eh, oltre... Questo bel faccione Ok? Oltre questo bel faccione Non è che c'è molto altro Però volevo parlare con voi Di possibili lead E di possibili lead 200% Volevo parlare di quello Perché? Perché le lead 200% sono hype E effettivamente a me piacciono molto Le lead 200% Soprattutto quando si busta un PG A manetta con una lead 200% Però, 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 però Ora Ovviamente Radish a me ricorda un'altra cosa Soprattutto ricorda che mancano tipo due giorni in croce All'1 aprile E che cos'è l'1 aprile? Bravi pesce d'aprile Farmer con lo shotgun Dokkan Devi darmelo Devi darmi il farmer con lo shotgun Dokkan Devi Assolutamente Ovviamente essendo pesce d'aprile Sappiamo che Dokkan fa la trollata Ci sarà la modalità Stupida Ok, vabbè Che ovviamente non esiste Però Però, però, però C'è il personaggio free to play Del pesce d'aprile Io vedo Radish Dokkan fest E penso solo a un personaggio Pesce d'aprile Il caro farmer con lo shotgun Il miglior personaggio di tutto Dragon Ball Il più forte di tutti Il meme vivente Il meme vivente Però ora Parlato ovviamente di questo Parliamo effettivamente di Radish Prendiamoci un attimino Non sarà un video super lungo Ma prendiamoci un attimino Per parlare di Radish Radish effettivamente in Dokkan Ha queste carte E basta La più recente È questo Radish Tech E Radish Tech Quanta è recente? 2020 Ottimo PG E Era buono 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 Però Prendendo lui Io voglio proprio parlare Del fatto di Come può essere questo Radish Dokkan fest Prendiamo le categorie Lo class warrior Pure seian Goku family Terrifying space traveling Abbiamo visto comunque di recente Che Gli ultimi due Dokkan fest Non hanno nuove categorie Ok Ora Per Radish Io mi aspetto invece La nuova categorie Sarò del tutto sincero con voi Io mi aspetto Questo settimo anno Come l'anno anche della Saiyan Saga a sto punto All'anniversario Goku e Vegeta Saiyan Saga Un mese e mezzo dopo Radish Mi aspetto qualcosa Per la Saiyan Saga Ok E visto che mi aspetto qualcosa Per la Saiyan Saga Io mi aspetto Lui Il leader Saiyan Saga Sono del tutto sincero con voi Mi aspetto qualcosa Della Saiyan Saga Volevo prendere anche giusto Una piccola Roba Un attimo solo Intanto prendiamo così Perfetto Andiamo a vedere un attimo Raditz Check Eccolo qua Con chi link ha bene? Ok Quanti link in comune ha con Pochi? Non aspettavo di più Vabbè è vero È lo class è vero È vero È vero Va bene Va bene Va bene Ho visto quello che volevo vedere Però come categori Io mi aspetto quel Possibile Lo class warrior Molto probabile Lo class warrior Saiyan Saga Categori Chi più 3 H Attack and Death 170 E chi è la lead 200 però? Perché effettivamente Bisogna pensare un attimo Anche alla lead 200 Goku family Nah Lo class warrior No Perché secondo me Sarà lead Lo class warrior Traveling Space traveling Se non sbaglio Ce l'ha genio Terrifying Io vedo solo Una categoria lì Che mi interessa È tanto By the way Io vedo Pure Saiyan Io vorrei tanto Vedere lead 30% Ai Pure Saiyan Saiyan Saga Sapete vero Che cos'è il Goku In 200% Vero Goku Kaioken Str in 200% Voi lo capite Lo capite Quanto è forte Vero Tanta roba È tanta roba E in più Mi aspetto Un Rare summon Piccolo Special beam cannon Una roba del genere Mi aspetto quello Però vedremo esattamente Che cosa sarà Radish è interessante Come PG Perché effettivamente Non Non c'è Sudokan Tranne per il tech E l'int Non c'è Radish Sudokan E tutte e due Ormai sono vecchi E soprattutto Uno è free to play L'altro è rare summon Che comunque era buono Assolutamente È stato buono Per fare le road Però 2020 Siamo nel 2022 E i rare summon Del 2022 Sono Devono essere Tanta roba Quindi Felice per Radish Felice per un possibile Farmer with a shotgun Pesce d'aprile Felice anche per un possibile Piccolo Special beam cannon Che uccide Radish e Goku Spero in tante cose Per questo Radish Sarò sincero con voi Spero in tante cose Però È giusto fare un piccolo discorso Prima di finire il video A fine mese C'è la golden week È l'ultima settimana Del mese L'ultima settimana Ad aprile Inizia la golden week Non sarà basata sul film Ne facciamo Facciamo un video a parte Per quello Perché il film È stato posticipato Amen Però Come dire C'è la golden week E la golden week Rilascia PG Veramente forti Basta vedere L'anno scorso Basta vedere Gli anni precedenti A prescindere Sono PG forti Quindi Vi converrà A pullare Su Radish Sarò sincero con voi Non tanto Forse sul global Dipende quando esce Però Dipende quanto esce Io però Lo dico subito Mi aspetto un PG Della madonna Sarò sincero con voi Mi aspetto un PG Della madonna Proprio perché Proprio perché è Radish Proprio perché è Radish Mi aspetto di vedere Quei PG Che Particolari da giocare Ma dei mostri Veri e propri Io mi aspetto questo Lo dico subito Detto questo Comunque ragazzi Stato Stato un piacere Grazie mille per aver visto il video Un video breve Però effettivamente Non è che c'è molto altro Di cui parlare Radish Fine Radish Il farmer con lo shotgun Pronto ad ammazzare Radish Detto questo Ragazzi lasciate un bel like Commentate Se siete nuovi sul canale Considerate l'iscrizione Noi ci vediamo stasera Alle 21 Sul canale Twitch Venite a dare un'occhiata Link in descrizione Detto questo Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti